Questa pubblicazione siamo arrivati al numero 9. Abbiamo voluto quest'anno con l'aiuto dei parroci di quella zona e anche di altre persone che ringrazio, professor Saverio Gaggioli in modo particolare, abbiamo voluto ricordare tre figure eminenti del nostro presbiterio, forse un pochino meno note al grande pubblico ma ugualmente di grande spessore. Don Giuseppe Gabrielli, Don Giacomo Ricci e Monsignor Enrico Testoni. Sono tre pastori vissuti in periodi diversi. Il primo Don Giuseppe Gabrielli nato verso la fine del Settecento, è stato poi quello che ha istituito e aperto la scuola a Borgo Capanne, quella che poi diventerà piccolo seminario. Dalla sua opera educativa usciranno, così come dice una lapide apposta al muro esterno della pieve di Borgo Capanne, 300 preti per Bologna e per Pistoia. Don Giacomo Ricci è stato parroco lì alla pieve di Borgo Capanne, soprattutto negli anni della guerra. Ha dato una grande testimonianza di fede, di forza, di servizio, rischiando per più volte la sua stessa vita. Ha lasciato un segno anche di carattere pastorale molto forte e molto marcato. Stiamo parlando di preti anche in questo caso, cioè per Don Giacomo Ricci, vissuti prima della grande assise conciliare, pure già con uno spirito di iniziativa e una creatività pastorale che quasi oggi ci fanno invidia. Infine Monsignor Enrico Testoni, prima parroco a Castenaso e poi per diversi anni indimenticato parroco a Porretta Terme. Un uomo che ha segnato con la laboriosità e la carità la sua azione pastorale. È uno strumento semplice, non dobbiamo dimenticare queste figure. Spesso siamo alla ricerca magari di soluzioni nuove, ma ricordando i nostri padri magari troviamo dei sentieri già aperti.